Allora ho deciso di parlare in italiano, che è quasi allo stesso livello del mio inglese, però farò qualche errore stasera, ma comunque la lezione che vorrei fare, ho dato il nome qui in inglese, The Perception of Space, dunque la percezione dello spazio, mio lavoro, mio studio, Studio Artsma a Rotterdam, fa dei progetti di varie scale, dunque facciamo progetti di interni, pochi di architettura, ma soprattutto di urban planning, dunque di progetti di grande scala, e spesso mi chiedono allora come si potrebbe combinare questi due livelli, sono progetti diversi, materiali diversi, conoscenze diverse, e questo è vero, però dall'altra parte alla fine siamo tutti umani, noi viviamo in questo mondo e in un certo modo cerchiamo di migliorare la qualità dell'ambiente, delle circostanze, e questo trovo come linea guida, una linea rossa nel mio lavoro, di giocare con la percezione, dunque alla fine quello che vediamo, riusciamo a controllare, modificare, migliorare, meglio che si fa, meglio è il progetto, dunque su quel metodo, quel mio interesse, mio stile, mio gusto, cerco di raccontarvi qualcosa stasera. E l'italiano ho imparato qua, questo è il Piazzo Castello a Milano, dunque quando ho fatto l'Erasmus quasi vent'anni fa a Milano, dunque studiavo a Delft in Olanda e venivo qua a studiare, avevo scelto Venezia, però non c'erano posti di venire lì, dunque era troppo popolare andare a Venezia, a Milano, c'erano pochi che volevano andare, dunque mi lasciavano andare a studiare a Milano. Dunque il caos e le bellezze delle città mi sono sempre piaciute, l'università stessa, la Politecnica, non era il massimo per me. Sono rimasto tre mesi, dopodiché ho deciso di uscire da scuola e di cercarmi un lavoro. E sono andato con il mio portofoglio a suonare la campanella di tutti i grandi studi di Milano, alla fine ho trovato un lavoro con Luigi Ferrario che ha il suo studio qui in Piazza Castello. E dunque dopo, penso, tre, quattro settimane che lavoravo da lui a fare dei disegni, a fare calcoli, eccetera, lui diceva, senti, la prossima settimana me ne va, devo andare a Roma, tu rispondi al telefono, tu ti fai funzionare qui tutto in studio. Dunque non avevo tanto scelta, dovevo imparare l'italiano, l'ho fatto. E cerco di tenere un po' di livello del linguaggio, che non è sempre facile. Comunque dopo dieci anni, dunque questo è un progetto che abbiamo fatto nel mio periodo di West8. Dunque il mio studio, Studio Hotsman, esiste da quasi sei anni, prima di che sono stato partner per sette anni nello studio di West8. Abbiamo fatto un progetto, questo qua, non so se l'avete visto, dunque non tanto lontano da qui. Si regna il paese, città, tipo 10-15 km in nord di Milano. La piazza deve essere una piazza più grande, dunque la parte sud è realizzata, la parte nord non è stata realizzata. Dovrebbe essere in teoria una combinazione fra spazio pubblico e l'azienda municipale che voleva realizzare un nuovo ufficio. Il progettista era Dominique Perrault. Alla fine è stata realizzata questa piazza e questo è anche l'unico progetto che ho potuto realizzare in Italia in tutti questi anni. Dunque come avete visto che è un spazio, proprio un piazza e mercato, in parte anche un parcheggio, e abbiamo cercato di sottolineare il fatto che è un vuoto, proprio un vuoto, come uno dei pochi spazi aperti rimasti in questo territorio vasto, pieno. E dunque non abbiamo cercato di farlo carino, di farlo più piccolo, di farlo piacevole, no? Abbiamo cercato di farlo più grande possibile, più aperto possibile, con testura di materiali e di, non so se si dice canali di acqua, ma percorsi di acqua che si legge come un disegno, quasi come la campagna stessa su fossi e canali. E dunque l'intenzione di questo progetto è stata quella di creare un'apertura in un territorio che ormai non è più riconoscibile come struttura, non è più riconoscibile come differenza fra aperto e chiuso, costruito o non costruito. E di fare un statement e dire, ok, il vuoto, almeno facciamo il primo passo verso la chiarezza. Qui lo vedete ancora in prospettiva. E dunque per proprio sottolineare il fatto che si crea un vuoto, abbiamo voluto abbassare la piazza di circa 30 centimetri e dunque alzare il terreno circostante e di fare un muro che definisce lo spazio, proprio di dire, ok, qui creo un'apertura per una volta in questo territorio definiscono una zona aperta. Qui in dettaglio i muri che sono stati fatti di cemento armato. E intorno, si vede qui nel verde, dunque abbiamo rialzato il terreno, anche le strade che passano lì, anche il treno che nella parte sud passa sulla piazza, sono stati, diciamo, inglobati in un progetto di paesaggio e così si, partendo dalla piazza, si definisce un territorio anche verde, dunque di riorganizzare lo spazio che non ha tanta struttura. Legato poi, la piazza si vede sulla parte sinistra con un quartiere residenziale che sta qui sulla destra. E' più importante, ancora, per sottolineare il niente, il volvo, abbiamo voluto costruire un oggetto, l'oggetto che si vede qui in prospettiva, qui si parte dal ponte pedonale, si passa sulla strada, si chiama via dello stadio, si va verso la piazza e la piazza ha un oggetto e l'oggetto, diciamo, fa il counterpart, dunque il contrabilancio con il fatto che il resto è aperto. Dunque la struttura è una struttura che non serve a niente, riferisce, forse a un giardino, riferisce al fatto che qui siamo nella campagna o siamo qui in un giardino, è quasi come un tempio giapponese che in sé come struttura non ha un significato, soltanto che viene percepito come un oggetto che per il fatto che non ha un motivo dovrebbe avere un motivo. Dunque il motivo prende per non avere il motivo. E dunque questo abbiamo cercato di dare valore al niente, al volto, a creare apertura in un'azione che non ce l'ha. E questa immagine dunque è l'oggetto nel volto e al contrario quando c'è il mercato è l'unico luogo dove c'è l'apertura, perché è l'unico posto dove i mercatini, i commercianti non possono vendere loro roba, dunque alla fine quando c'è il mercato è l'unico rispiro che c'è in questa zona. Dunque anche qui per la sua altezza, quasi 9 metri, viene visto anche da lontano, anche dal treno, quando prendi il treno da Milano verso la Svizzera, la Germania, passi sempre e vedi sempre questo oggetto sulla destra.